In questo delicato momento di emergenza sanitaria è importante restare il più possibile a casa. Anche fare semplicemente la spesa potrebbe essere rischioso. Ci sono diverse attività commerciali del territorio agropolese che mettono a disposizione dei cittadini la spesa a domicilio con consegna gratuita direttamente presso le abitazioni dal lunedì al venerdì. Uno fra questi esercizi commerciali è il supermercato MD di località Mattine ad Agropoli. Nella locandina che vi stiamo mostrando attraverso il servizio realizzato è possibile anche scaricarla attraverso il nostro sito internet www.cilentochannel.it e la nostra pagina facebook. Troverete tutte le informazioni necessarie per la spesa da fare comodamente da casa. Per ordinare e scegliere gli alimenti da acquistare è possibile consultare la pagina facebook MD Cilento CPF.